I carabinieri della stazione di Roccaraso hanno notificato un provvedimento di aggravamento della misura cautelare agli arresti domiciliari cui era sottoposto ad Angelo Pasqualino Aliberti, che è stato pertanto associato alla casa circondariale dell'Aquila in regime di detenzione in carcere. Il provvedimento è stato messo nella giornata di ieri dal Tribunale di Nocere Inferiore ed è stato adottato per le diverse infrazioni alle prescrizioni relative alla detenzione domiciliare poste in essere dall'imputato.